Combatti, lord dei gorniti del ghiaccio Traydeon! Salute, principe del ghiaccio! Guardiani, vedo che il guerriero Mekan non riesce a raggiungere il cristallo! Esatto, devi catturare Cryptus per impedirgli di creare altri portali Di sicuro i miei ultrapoteri potrebbero fare la differenza Ma tu devi rimanere costantemente concentrato Io... io posso farcela! Concentrati di più! Mi serve maggiore velocità! Ci proverò! È un vero disastro! Ikor, se non riesci a concentrarti, Kionos non potrà raggiungere il cristallo! E ciao, ciao a noi, lo so! Bene, bene, piccolo guardiano! Sembra che tu sia molto sotto pressione! Il meglio di Ikor è alquanto sorprendente! Ce l'hai fatta! No! Combatti, lord dei gormiti del fuoco! Kionos! Magma Blast! L'energia Omega di Xator è davvero smisurata! Ma Kionos sta resistendo! Abbiamo ancora una possibilità! Per caso qualcuno prima stava parlando di rinforzi? Metro duplicatore! Zotobo! Ma è dappertutto! Riff, non resisterò ancora a lungo! Temo di non essere in grado di poter disattivare questo cristallo! Ma, 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 ma questo è impossibile! Trek ha disattivato il suo cristallo e lui è un roccioso! Il fuoco è migliore! Non possiamo perdere! Esatto, Riff, orgoglio! Nuclear usava il tuo sciocco orgoglio contro di te durante la sfida! Ora tu puoi usarlo contro Xator! Non sono orgoglioso! Non c'è orgoglio dove c'è verità! Oh, aspetta! Hai ragione! Sì, ha ragione Aoki! Tu sei proprio uno spacconi! Ora i tuoi problemi si sono moltiplicati! Ottimo lavoro, Riff! Vedo che padroneggi l'ultraconcentrazione! Magma Blast! No! Ci vediamo presto, ragazzi! Gormiti, Gormiti, raggiungibili! Chi mi fermerà? The legend is back! The legend is back! Gormiti! Gormiti!